Lieve aumento per la borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,28% a 26.599,96 punti, al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 7.671,07 punti. In netto miglioramento il Nikkei 225, più 2,13%. Poco sotto la parità l'indice cinese, meno 0,66%. Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Wall Francoforte, con una marcata risalita dall'1,74%. Londra avanza dall'1,04%. Ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dall'1,17%. In luce sul listino milanese il comparto tecnologia, con un più 5,21% sul precedente. Protagonista IST Macro Electronics, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,99%. Pubblicati in Giappone il dato sul PMI Manifatturiero, pari a 49,3 punti, e il dato sull'indice ITENCAN, che si attesta su 7 punti. Sono previsti stamattina dalla Germania l'annuncio del tasso di disoccupazione, e dall'Unione Europea quello di M3.